Eccoci ben trovati, ci troviamo a Iesolo Pinetta, siamo in compagnia di Stefano Manfrè che è il titolare dell'hotel Picobello. Buongiorno Stefano, come stai? Come hai passato questo lungo lockdown? Il lockdown è stato molto faticoso, è stato difficile stare a casa, non lavorare anche se ci ha dato modo di mettere a posto l'albergo, sanificarlo, pulirlo come prevede tutto il decreto e il protocollo. Esatto, sono passati i primi due weekend d'estate, ecco il mese di giugno ormai terminato, come sono andati innanzitutto? Abbiamo lavorato molto bene durante il weekend, molta gente, molta gente dal venerdì alla domenica con la piscina, con la spiaggia già aperta e adesso prevediamo di incominciare a lavorare, speriamo non solo durante il weekend ma anche durante tutta la settimana, infatti ci sono già molte famiglie che hanno prenotato per fortuna periodi più lunghi. Benissimo, per quanto riguarda invece il discorso delle soluzioni adottate in tema di sanificazione, quali sono appunto queste misure? Le misure che abbiamo adottato quest'anno per quanto riguarda la sanificazione dell'albergo non sono poi così diverse come restringenti da quello che facevamo gli anni scorsi, perché comunque anche gli anni scorsi le camere venivano sanificate con i prodotti adottati che venivano utilizzati per legge, i condizionatori sono sempre stati sanificati tutti gli anni, non è che perché quest'anno c'è il covid iniziamo a fare una pulizia diversa. È logico che ci sono delle accortezze diverse rispetto agli anni scorsi, tra tutti c'è l'uso della mascherina dentro gli spazi comuni dell'albergo, che però appena usciti dopo viene tolta. Benissimo, io ho girato un po' in questi due giorni qui a Jesolo, vedo che la gente è tranquilla, rilassata, è un po' tutto come l'estate passata, non è molto diverso. Diciamo che le persone non sentono tutta questa paura, ansia. Diciamo che noi al Picobello Pinetta, se proprio avete un pochettino di paura, siamo in una zona molto più tranquilla, la spiazza è molto più larga, c'è un distanziamento un po' maggiore rispetto a quello che potrebbe esserci in centro Jesolo. C'è qualche certezza in più rispetto alle altre zone. Benissimo, allora un messaggio positivo qui da Jesolo Pinetta, vogliamo dare i dati per poterti contattare, eventualmente poter fare una prenotazione? Potete andare direttamente sul nostro sito che è www.hotelpicobello.it, mandarci una mail oppure telefonarci dove ci sono i contatti. Benissimo, allora ripetiamo, Jesolo Pinetta, Hotel Picobello, Stefano Manfrae vi aspetta. Buonestate a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.